Vi dirò Questo gioco Mi intriga Solo che da quello che ho capito E' molto complicata la storia Influenza Non si sa Adesso lingua audio Va benissimo Meno che non c'è in italiano Vabbè Sti cazzi De quello che so Dovrebbe essere tipo una cosa sci-fi Barra psicologica Barra ogni volta che c'è un dialogo Qualcuno Comincia a farti certe Cose mentali Assurde Barra ogni volta che c'è Barra ogni Quindi qui sono io. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that... I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like... We live in a room. And there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room. And the poster. The picture is something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie... What is it called? The prison movie. The room is a cell. And the picture is different for each of us. It can be beautiful or terrible. But we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger. And much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes... Sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen. Freak out. And try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Federal Bureau of Control. To FBC. Anyone here? Wait, what the? Wait, what? What the hell are you doing? What the hell are you doing? What the hell are you doing? Telephone smart! Qualsiasi cosa smart. Ma direi direttamente qualsiasi oggetto smart. Interno lockdown effect. Building lockdown effect. Multiple containment breach. Breach. Multiple and building shift. SP... SCP? SP Foundation? Sei tu? Dovevo incontrare un... Dottore della peste. Non mi ricordo i numeri. Non mi ricordo i numeri. Raga, non me trasformiamo. Non me trasformate in un horror, eh. Ovviamente tutto celato. Sì. SCP Foundation. Sì. Sì. SCP Foundation. Sì. Direttore... Zaccaria... Se sta... Se sta facendo il lavoro, questo lavoro allora non lo sta facendo bene. Tra le macchie... E le foglie che stanno per terra. Bagni. Non avevo dubbi che erano i bagni. Sì. Vado sempre a finire i bagni. Gira e rigira. Raga... Sta a salire la tensione. FEDERAL BUREAU OF CONTROLLE. Tutti questi anni ho stato cercato per loro e stavano scendendo in plain sight. Ma c'è una porta dentro sti uffici, cazzo? Tutto vetro. Come facevano? Spondavano le finestre ogni volta. Uh, capiamo. Un cacchio. FRETZEL. POTATO CHIPS. PISTACHIOS. No, PISTACHISOS. Guardate. Ne trattate bene. Un ufficio barra dalla riunioni. Uno squa... Come? Permesso di... Eseguendo il progetto di sparate per uccidere. Qualcuno si è portato uno scuola al lavoro. Ok, va bene. Già mi piace questo post. Wait, what the... Ciao. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. Eseguendo il progetto di Jinja. questo però è uno spero di do brutto perché deve essere spagnolo l'interviente spagnolo latino non è un americano Non è... Tu puoi dire che l'avevo a te. Se non si trattano a te, te... sei... Tu sei un sacco. Ci saranno un lavoro per l'accio. Prende loro dietro l'accio. Non si trattate. Eh? Ho fatto abbastanza di lavoro di notizia, per sapere che ci fa venire strano. Auti, il giudizio, è un peccato amico. È meglio che qualcuno con nessun peccato. Pensi su questo. Non caccia. Ma, per esempio, vedo cosa stai pensando. Se c'è un giudizio di giudizio, è lui. La cella. E il poster. Io ero 11 anni, la prima volta che ho visto il poster. Mi hanno detto che l'ho immaginato. Ho cercato di prenderlo sempre. Ti aiutarti? Ok. Ah, prima di iniziare. Wallpaper. Eh, wallpaper. Ok. Però non è la stessa cosa dove si è sparato. Un vecchio computer. Vecchio vecchio vecchio. Un vecchio computer. Ehm. No, ovviamente sei sulla trentina. Qui è il più, forse. Trentadue, trentaquattro. Sono io ventisette. Sono fatti quel gennaio. Bravo, eh. Cosso, cosso. Come? Dove è sta l'arma? Dov'è che lo spengo? Mi spiace l'orgoglio per la ricordata, per la ricordata. Dai, ma ti devi dare Alaska forbici. Come Alaska forbici, sanguinamento, perdita, scuse. Perché Alaska? Quell'uomo mi fa paura. Quella faccia lì è pericolosa. Mi si ricorda... Il militare di Don Brit. È un horror. Cioè, più o meno. No, sì, no. È un horror, alla fine. Più o meno, sì. Più un horror. Uh! Che figo questi! I tubi per le messaggi rapidi. Barbati, non so che ci sono. French. È il nome di quello che mo... Ma niente, lascio stare. Guarda, non mi serve il lavoro. Bene così, c'ho un retiro di cittadinanza. Mi piace. E vabbè. Fermi tutti. Cazzo, si è appena sparato. Ma con che cazzo stai parlando? Ma che c'hai? Tipo Beyond? Due anime? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's, Altered World Events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Look at this place. Where am I? Sono, tra una parte, da una parte sono un pochino spaventato, cioè, più creato, un po' peso, perché la situazione... Tra l'altra, è spettacolare sta cosa. Mamma mia, ci ho visto per terra. Ok. la pistola a casa. scelto come ho prescelto. Ok. Ora ho una gun. Il meglio che non aveva niente, fidati di me. Ho l'arma di servizio. La mira è una merda per me. Le munizioni ce le ho finire? No. Ah, rigida la promozione quando viene usata. Ah. Non c'è letshot. No. No. Oddio, posso fare come gioco io? Posso? No, adoro. Vai. No, non è morto, che bastardo. non è morto. quella è la salute, quindi, le cose più che lascia sono la salute. Quelli tutti sono di recuperare la salute, ok? Tu, noi deteniamo la scetta, te. perché mi ricorda tanto? che cosa stai parlando? Ma cosa stai parlando? è il figlio morto. Sì dopo che la piramide parlò con me, e era solo un ruolo, e ho capito tutte le parole. E questa guna è vivita. Sanno cosa? Sono felice. Felice di essere qui. sono molto confuso porca miseria ah no 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 più facile da fare visto ok 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ma allora, guarda, guarda, solo perché sono stanco... guarda, guarda... guarda, guarda... guarda, 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 guard no 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 compi 60 dai non si ricorda la comma se la fa dire la segretaria ma che vergogna io penso comunichi con una specie di entità non so ma non so non so non so non so scherzando dai tra attimi davam fuori ma questo è bellissimo questo è più complesso eh sono più complesso oh shit shh shh ecco non so 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 ma non so non so sorridi sorridi malissimo non so 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 che non so ma brava se non so non so non so dì dicendo se non so 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 Io l'adoro questa cosa, l'adoro